che traffico hai visto come mangiare? hai visto come mangiare adesso? arriva, arriva, arriva ah ma voi ce la rubano i piccoli eh? ciao poi dicono l'istinto materno eh non lo spedi sfogliato all'interno no? si ma dalla famiglia spostati sono roditori eh sono roditori se ne era presa una volta la mia nipote di casa l'aveva comprato è di scritto casa è di scritto casa gli ha mangiato tutti i mobili tende di tutto